Buongiorno, mi trovo all'esterno della scuola Guilielmo Marconi, ho appena dato il mio voto per le elezioni, qui c'è la mia tessera elettorale, vogliamo un attimo riprendere, Luca, e oggi, signori, 20 maggio 2012, ho concluso gli spazi per la certificazione del mio voto. Cioè, tutti e 18 i timbri, per me è un momento importante di esercizio della democrazia, proseguiamo così insieme a tutti i commentari, e niente, non so, adesso dovrò chiedere una tessera nuova, oppure lo devo leggere come un segno dei tempi, sono finiti gli spazi per la certificazione del voto, quindi la profezia dei Maya si avvicina, a questo punto mi chiedo, Lombardo si dimetterà realmente, quindi a ottobre ci saranno le elezioni e dovrò prendere una nuova tessera, o finirà tutto il 21 dicembre 2012. Questo lo scopriremo nelle prossime puntate di voi. Adesso, la pubblicità. Amia!